Cosa dovrai fare? Ti aspetti che scivoli sotto l'auto con uno skateboard e tagli qualche cavo? Come nei film? Kirk, auto come quella hanno sistemi di sicurezza. Ottimi sistemi. Questo giocattolino funziona come la chiave usata dai tecnici Rayfield per le riparazioni. Apre serrature e bypassa autorizzazioni identificative. Un passepartout per tutte le Rayfield in città. Dai, Kirk, non ci crederai davvero. I maghi della tecnologia di Kabuki vendono cose anche più strane sotto banco. Abbia un po' di fede. Allora, siamo d'accordo. Farai meglio a mantenere la parola. Tranquilla, V. Questo lavoro riempirà le tasche anche a te, sai. Vai all'Ambers, del Glenn. Rick, ti aspetta nel garage. Già. Andrete da qua. Hai visto ancora te allora? Loca all'uomo. Attura all'uomo. Un paš. Una cassa. Un paš. Facebook, ci sono state. Un paš. Un paš. Un paš. Uno. Un paš. Un paš. Un paš. La madonna non vincerà la città. Cazzate, quel cabrone è il migliore della sua categoria. Certo, certo. Stesso Hernandez e Smith. Cano ha un dono. Grazie. Il giapponese? Un pugile. Ti prego. Cano ha il miglior gioco di gambe. Se non lo colpisce, non puoi. Qualche spicciolo per un veterano. Il Dio della città. E' un ragazzo di santo. Voglio tenersi pronti. Sì, padre. Bene. Guarda un po' chi c'è. Vì. Quanto tempo. Non sapevo che fossi qui. Adesso sì che mi sento a casa. Sono tornata da Atlanta qualche settimana fa. Vedo che ti hanno dato già un bel benvenuto. Com'era, esta? Te lo racconto dopo. Adesso ho un po' da... Che ne dici di raccontarmelo subito? Ti do un passaggio. Marcus, andiamo. Dove sei diretta? Nel Glen. Lasciami pure all'Ambers. L'ingresso principale. Prendi la rampa sul retro. Vi dico dove fermarvi. Hai sentito, Marcus? È andato bene il tuo ritorno a Night City. Sei già a lavoro? Ho trovato qualche lavoretto qua e là. Niente di grosso. Ma tiro avanti. Grazie per l'interessamento. Quindi... Atlanta non era poi come ti aspettavi. Come vedi, sono tornata. Se fosse stata meglio, sarei rimasta lì. Forse sarà tutto riguadagnato. Merda! Ferma l'auto. Che succede? Affari. Sei armata. Sebastian Ibarra. È il mio giorno fortunato. Che cosa vuoi? Chiudere i conti. Una volta per tutta. Ho un'offerta per te, paparino. Sta a sentire. Vattene da vista. Ritira i tuoi ragazzi dalle strade. Ti darò il glen e affare fatto. Niente più notti insonni. Vedi quanto sono generoso? Beh, paparino, che mi dici? Voglio farti una controfferta. Voltati subito. E risali in macchina senza fermarti. E? È tua madre che vive a Pajaro. Domattina si sveglierà sana e salva. Il signore è sempre vigile, cavro. Attento, padre. Non sai mai chi ti punta un fucile alla schiena. Neanche tu, mezza sega. Marcus, vai. Atlanta ti ha rammollito. Che vuoi dire? Sai cosa intendo. Chi era quello? Nessuno d'importante. Tra una settimana non ci sarà più. E arriverà qualcun altro. Ti ha puntato un ferro addosso? Sì. E la pagherà. Accosta qui. Qui va bene. Scenderò di sotto. Tieni, prima di andartene. Il tuo numero? Magari ti è utile. Forse potremmo tornare a fare affare insieme. Tornare a due anni fa. Grazie, padre. Devo andare. Il signore sia con te. Porca puttana. Fa un po' caldo ultimamente. Vattene dalla città prima che sia troppo tardi. Sì? Che c'è? Oh, cazzo. B, situazione. Sono sul posto. Sto per parlare col tuo uomo. Rick è un tipo affidabile, vedrai. È come un fratello per me. Sì, me l'hai detto. Sì, posso esserti d'aiuto? Mi manda Kirk. Le telecamere sono spente. Hai venti minuti. Fa quello che devi. Kirk, vedo l'auto. Ora toccate, ragazza. Buona fortuna. Proviamo questa meraviglia tecnologica. Che donna di poca fede. Listo? Siamo ricchi. Ora mettila in moto e chiamami quando sei fuori. Ti dirò dove andare. Ok. Sembra che sarà un gioco da ragazzi. Ma che... Scendi dalla cazza di auto. Merda! Vedi bene. Ora scendi. Che fai? Ma che cazzo? Non è il segnale che fate le armi. Mani in vista! Siete in arresto. Restate dove siete. Mani bene in vista! Non fate scherzi. A terra, pezzi di merda! Subito! Jackie Wells. Il mio vecchio amico di quartiere. Vedo che gli anni non ti hanno reso fustaggio. Ehi! Ehi! Detective Stins! È passato di tempo! Ispettore Stins. Ah, stessa roba. A proposito, anche la tua faccia mi è familiare. Forza, sputa il rospo, sto aspettando! È ripartita per Atlanta, in cerca della felicità. Pare che tu non l'abbia trovata. Ho sempre pensato che voi parassiti di Haywood nasceste qui, viveste qui e moriste qui. A quanto pare avevo ragione. Ti hanno mangiato la lingua? E dai, Stins! Non puoi far finta di niente. Se ci arresti non faremo un cazzo fino al processo. E poi? Alla peggio. Ci daranno qualche mese. Merda. Oggigiorno la galera è strapiena, quindi... Ci cacceranno prima del previsto. Sono questi i ladri. Cazzo, merda. Invece una strada qualsiasi. Li ho arrestati, signor Fushioca. Li porto subito via da qui. È tutta fatica sprecata. Non ho tempo per testimoniare o collaborare alle indagini. Cosa? Dovremmo lasciarli andare, signore. Dico soltanto che dovreste gettarli in mare. Ammanettati e con le gambe spezzate in modo che non tornino via. Sentito, no? Ah, cazzo. Giornata di merda. Sinceramente, per un attimo l'ho vista brutta. Non pensavo che ce l'avremmo fatta. Nemmeno io. Stinz è uno che non molla se ti dà la caccia. Ma gli è rimasto un po' d'onore. Dici che è il suo senso dell'onore che ci ha salvato? Beh, è il fatto che è nato e cresciuto a Ewood come noi. Se non fossi arrivato, ora staresti sfrecciando per le strade di Night City. Ah, è stata colpa mia. Aspetta, perché? Gli sbirri non sono usciti dal nulla. Il mio giocattolo deve aver fatto scattare l'allarme. Beh, forse è il volere di Dio. Jackie Wells. V. Ti conosco. Ti ho vista al coiote. È lì che ho avuto l'incarico di rubare quell'auto. Da Kirk. Lavori con quel topo di fogna. Pepe gli doveva dei soldi e non poteva pagare. Così lo ha aiutato. Cazzo, come fa Pepe a farsi comandare così da quel viscido di Kirk? Sai cosa dicono. All'appoggio del cartello. Del cartello? No, no, ascolta. Conosco gente del cartello e ti assicuro che nessuno ha mai sentito parlare di Kirk. Quel bastardo deve imparare che non si frega la gente di Heywood. Forza, andiamo a mangiare un boccone. Ah, così. Qualche minuto fa mi puntavi una pistola alla testa. Se aiuti i miei amici, per me sei una a posto. Nessuno si è fatto male, no? Nessunissimo. Ho un ottimo presentimento. Su cosa? Su di noi. C'è una certa chimica, sai? Forza. Sto morendo di fame. Ok, e cibo sia. Andiamo. Salve Night City! C'è Stanley qui con voi. Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni. Oh, amo questa città. La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfotrofio e vent'anni dopo gli chiede una sigaretta per strada. Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce. Ma solo metà di questi idioti resisterà un anno. Metà? Se tutto va bene. E perché questa gente viene a NC? Per fare nuovi samurai come Morgan Blackhand e Wayne and Boa Boa. Maggiore il rischio più alta la taglia. O almeno così dicono. Ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre. Più veloce vivi, più in fretta di consumi. Se prima non ti becchi un proiettile in testa. Sapete dove si trovano quasi tutte le leggende di NC? Dal cimitero. Per fortuna non importa da dove vieni, non importa che strada fai. Importa solo il modo in cui arrivi. A Night City. La città dei sogni. La tipa che cerchiamo deve essere in questo edificio. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito. Ho una cosetta per te. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronta per qualche tiro al bersaglio virtuale? Certo. Perché no? Sì. Grazie a tutti.